Buonasera a tutti e bentornati in un nuovo video. Questa sera facciamo una stesa un po' diversa. Andiamo a prendere un oracolo, come potete vedere, che vi ho già preparato, e poi andiamo dall'oracolo a chiedere il significato. Che cosa significa? Perché c'è questo oracolo per voi? E di avere un po' delle delucidazioni. Vi ho preparato tre varianti. Variante numero uno con il nostro pulcino, variante numero due con la pigna e variante numero tre con la candelina. Andiamo un po' a vedere che cosa si c'è là dietro a queste carte. Io vi ricordo che questo video è vai dal momento in cui l'avete aperto e non soltanto quando viene pubblicato. Se dovesse essere che non sentite risuonare qualcosa di grico, magari all'interno di alcune varianti, potrete semplicemente prendere ciò che vi risuona e vi chiedo di lasciare andare il resto con serenità. Perché se non vi risuona, semplicemente magari è perché è per qualcun altro che sta ascoltando sempre il vostro video, la stessa variante che ascoltate voi. Quindi vi chiedo di adesso concentrarvi, scegliere la variante che vi attira di più. Potreste avere bisogno di più tempo. In quel caso mettete pure in pausa il video. Io procedo subito con il pulcino. Eccoci qui con il nostro pulcino, variante numero 1. Andiamo a vedere cosa si nasconde dietro al tuo oracolo. Grandi felici cambiamenti. Sono molto molto felice di leggere questa carta. Andiamo a vedere anche con i tarocchi perché abbiamo la carta di grandi e felici cambiamenti per quelli che hanno scelto la variante numero 1. regina di spade, poi abbiamo il 9 di bastoni, il mondo al contrario e la ruota. Allora, ti posso dire che da quello che vedo tu stai incrementando la tua energia di difesa. La regina di spade è una regina, un'energia molto, come dire, rigida in un certo senso perché stabilisce dei confini, però anche giusta. È una carta che ti dà veramente la percezione di quelli che sono i tuoi confini di protezione, ok? Però allo stesso tempo è anche molto mentale, molto lucida, molto stratega, quasi come Atena. Quindi in questo senso possiamo dire che stai sviluppando queste doti che forse in un certo senso avevi già, però erano state anche utilizzate contro di te magari nell'infanzia, in alcune relazioni tossiche e abusive perché sento che alcuni di voi ne hanno avute. Attenzione solo a non andare a chiuderti in una sorta di muraglia che ti possa togliere poi dall'interazione con le altre persone in tutto e per tutto. Però io vedo che qua in realtà c'è equilibrio, quindi secondo me quello che andrai a costruire sarà un muro di protezione intorno a te che però lascia entrare solo le persone che ti fanno veramente del bene, ti fanno stare bene. Abbiamo il mondo al contrario con la ruota, due arcani veramente molto, molto belli di cambiamento, di opportunità, un qualcosa che apre al nuovo. Il mondo è ancora il contrario perché secondo me c'è ancora qualche frequenza che va modificata, quindi secondo me potresti lavorare un pochettino di più sull'alzare le tue vibrazioni, il renderle ancora più positivi di quelle che già sono, però se già hai questi due arcani significa che hai delle vibrazioni molto, molto belle e poi non dimentichiamoci che è uscito grandi, felici cambiamenti come oracolo all'inizio della stesa, quindi questo significa che hai delle bellissime energie. Abbiamo la ruota, quindi i cambiamenti da quello che magari puoi aver vissuto prima e che può averti fatto soffrire sono assolutamente proprio sulla soglia della porta se non sono ancora avvenuti e se invece stanno già avvenendo sei nel bel mezzo del cambiamento, quindi cerca di sviluppare questa energia della regina di spade se già la stai sviluppando continua così, la tua energia è bellissima e cerca sempre di alzare di più le tue vibrazioni se puoi perché stai andando verso grandi e felici cambiamenti. Spero di esserti stata utile con questa lettura, io ti saluto e noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video, io passo subito alla variante numero 2. Eccoci qui, variante numero 2 della pigna, andiamo un po' a vedere che cosa si nasconde dietro alla tua carta degli oracoli. La meditazione porta risposte. Come mai c'è questa carta? Andiamo ad approfondire con i tarocchi perché abbiamo la carta la meditazione porta risposte, abbiamo il carro al contrario e poi andiamo a prendere altre carte perché abbiamo la meditazione porta risposte, abbiamo un sette di bastoni e un mago. Allora, da quello che ti posso dire, secondo me è una situazione che ti fa sentire quasi bloccato o bloccata, è come se non riuscissi ad andare avanti, a progredire, è come se fossi fermo, ferma in quello che è la tua situazione attuale che magari però non ti fa star bene. Quindi in questo senso ti danno questo consiglio gli oracoli. La meditazione porta risposte. Perché? Perché la cosa che devi fare è andare dentro di te, meditare e ricevere le intuizioni giuste che ti servono, le intuizioni corrette. Spesso e volentieri ti ritrovi ad avere conflitti interiori che magari ti possono anche causare del disequilibrio. Quello che vedo che ti porta a conflitti interiori è la paura. Molto spesso hai paura magari di qualcosa, quindi cambiamenti oppure anche semplicemente di atteggiamenti che non riesci a esternare o emozioni che non riesci a esternare. Magari vorresti comportarti in un determinato modo ma non ci riesci perché hai paura di mostrarti per ciò che sei, ad esempio. Quindi tutto questo ti crea delle grandi battaglie quasi interiori, no? E questo è molto faticoso, è molto sofferente. Ti dicono una cosa queste carte, tu sei nel potere, nell'energia del mago in realtà. Cosa vuol dire? Il mago è una figura che ha tutte quante le carte in mano, in tavola scusatemi, per fare ciò che vuole della propria vita. Il mago può realizzare letteralmente qualunque cosa perché ha gli elementi, ha i poteri sui quattro elementi, quindi può utilizzare i quattro elementi per creare la materia, creare ciò che vuole. Come si traduce nella realtà questo? Si traduce nella manifestazione. Ovviamente noi abbiamo il potere di manifestare ciò che vogliamo utilizzando le nostre capacità cognitive di manifestazione, le nostre capacità energetiche, ma anche con le nostre azioni. Noi possiamo fare ciò che vogliamo, possiamo manifestare letteralmente ciò che vogliamo. Basta vocalizzarci sulle vibrazioni, sulle frequenze giuste. Mantieni frequenze alte per manifestare cose positive, cose belle. Quindi in realtà ti danno già un consiglio, ti danno già anche un ritratto quasi di te. Tu sei il mago, tu sei in potenziale una persona che può veramente fare tantissimo. Quindi non demordere perché forse hai solamente una resistenza nel muoverti e nell'andare verso qualcosa di nuovo, ma comunque l'arcano del carro c'è. Quindi anche lì hai assolutamente l'energia giusta. Cerca di fare meditazione in modo da risolvere i tuoi conflitti interiori e soprattutto durante la meditazione affronta la paura, affronta le tue paure. Questo è molto importante. Spero di esserti stata utile con questa lettura. Noi ci vediamo domani, sempre alle 20, con un nuovo video e io passo subito alla variante numero 3. Eccoci qui, variante numero 3 della candelina. Andiamo a vedere che cosa si nasconde dietro alla tua carta. Non ti fermare. Abbiamo questa carta qui per te, quindi probabilmente magari sei un po', stavi cercando di portare avanti qualcosa che vuoi realizzare ma è come se avessi un po' qualche intoppo, non lo so, però ti dicono non ti fermare. Andiamo a vedere con i tarocchi di chiarire perché abbiamo questa carta. E abbiamo il 3 di bastone al contrario. Abbiamo il 3 di bastone al contrario. Poi andiamo a vedere perché c'è questa carta. ok, il 2 di coppe. Perché c'è questa carta? Perché abbiamo non ti fermare. Perché abbiamo la carta di non ti fermare. Perché abbiamo la carta di non ti... Oh, mamma mia. Allora, direi queste no, non le prendiamo e andiamo a mischiare le altre. A volte non vogliono farsi vedere. Se ne vanno dal mazzo. Allora, perché abbiamo non ti fermare. Questa qua. Allora, ti posso dire che da quello che vedo se non ti suona magari prova un'altra variante ma io qua vedo proprio che una collaborazione non è andata in porto. potrebbe trattarsi di qualcosa di lavorativo ma vedo che per la maggior parte di voi si tratta proprio di qualcosa a livello di coppia, di amore, a livello familiare, diciamo, no? Magari volevate collaborare con una determinata persona per creare un futuro insieme, volevate costruire qualcosa insieme ma è come se non fosse andato in porto qualcosa. Allora, per alcuni di voi vi dico chiaramente che potreste ricongiungervi con la persona, con la quale sono andata oh Dio scusate la dislessione ogni tanto con la quale sono andate male le cose quindi potreste ritrovarvi con questa persona chiarirvi e soprattutto parlare dei vostri dolori parlare di ciò che avete vissuto insieme e del dolore che magari vi ha portato questa separazione e poi arrivare all'unione magari sotto altri presupposti quindi magari con altre premesse ok ricostruire un rapporto differente da quello che avevate prima e in questo modo costruire veramente un'unione solida e salda che vi permetterà di anche costruire qualcosa di concreto insieme per altri invece si tratta di una una persona nuova che arriverà e parto dall'inizio dicendovi che non c'è stata la possibilità di collaborare con questa persona con la quale è terminato tutto passerete e state passando come sapete immagino momenti di grande sofferenza perché purtroppo non è andata in porto quello che era il vostro progetto con questa persona è inevitabile che ci siano dei momenti del genere di sofferenza nei quali dovete stare da soli magari a rimuginare un po' su quello che è successo non vi fate tediare troppo da questa sofferenza perché sappiate che c'è qualcosa di nuovo che arriverà per voi se non riuscirete appunto o non vorrete riappacificarvi o non sarà il vostro caso appunto di riappacificarvi con la persona precedente per voi invece arriverà una nuova persona quindi io qua vedo proprio una comunione una comunione di interessi una comunione di anche due cuori proprio che si trovano che vogliono costruire qualcosa insieme qualcosa di veramente autentico ok questo è veramente un bel messaggio quindi non demordete perché appunto come vi dice proprio la carta non vi fermate c'è possibilità c'è speranza per voi di creare qualcosa di positivo per alcuni di voi con la stessa persona per altri di voi con una nuova persona che arriverà quindi per favore non perdetevi d'animo questo è il consiglio degli oracoli per voi non perdetevi d'animo perché c'è qualcosa di bello che sta arrivando per voi ok questo è il mio risponso per voi oggi io spero di esservi stata utile vi saluto vi abbraccio e noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video ciao ciao e buona serata ciao ciao